Signori, è uscito l'inizio letto numero 2. Tecnicamente lo potete preacquistare, ne ho comprati 200, cioè ne ho fatti produrre 200 perché le mie finanze questo mi permettevano di fare, quindi sono un numero limitato, ma perché limitate sono le mie finanze in acquisto a monte? La figata qual è? Che dentro qua c'è uno, lo potete acquistare già da oggi, le spedizioni verranno fatte il 20 di aprile, quindi sapete che sono 200, le spedizioni vengono fatte il 20, lo potete acquistare già da oggi sul sito www.viaggiodiscoperta.it ed è il terzo libro pubblicato del Viaggio di Scoperta, fighissimo. Ma due, dentro qua c'è un capitolo aggiuntivo, per questo costa 9 e non più 7, dentro cui io comincio a comprimere e collettare tutte le diverse curiosità raccontate nell'inizio letto 1 in un unico racconto, cioè cominciamo a dare una voce unitaria a questa Venezia fatta di mille curiosità. Ed è bellissimo, perché sto di fatto cominciando a scrivere la mia storia di Venezia, però sommando tutte le curiosità, e quindi è una storia che sarà abriosa, ma soprattutto cominciamo a dare un corpo a questa città, a questa cultura, a questa civiltà, che è un mito politico, che ci interessa oggi, perché oggi viviamo dentro in un mondo politico, come sempre si è vissuto, e Venezia resta sempre un faro, da questo punto di vista. Per quanto oggi sia un po' l'ombra di se stessa. Quindi sono molto felice di questa terza pubblicazione, sul sito www.viagiadiscoperta.it trovate già in preordine il libro. Vi verrà spedito il 20 e non vedo l'ora di mandarvelo a casa e parlarvene meglio nei prossimi giorni. Ciao!